in quel tempo gesù disse ai giudei in verità in verità io vi dico se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno gli dissero allora i giudei ora sappiamo che sei indemoniato abramo è morto come anche i profeti e tu dici se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno sei tu più grande del nostro padre abramo che è morto anche i profeti sono morti chi credi di essere rispose gesù se io glorificassi me stesso la mia gloria sarebbe nulla chi mi glorifica è il padre mio del quale voi dite è nostro dio e non lo conoscete io invece lo conosco se dicessi che non lo conosco sarei come voi un mentitore ma io lo conosco e osservo la sua parola abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno lo vide e fu pieno di gioia allora i giudei gli dissero non hai ancora 50 anni e hai visto abramo rispose loro gesù in verità in verità io vi dico prima che abramo fosse io sono allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui ma gesù si nascose e uscì dal tempio essi morranno in pace in pace si spegneranno nel nome tuo e oltre la tomba non troveranno che la morte ma noi conserveremo il segreto e l'illusingheremo per la loro felicità con una ricompensa celeste ed eterna e ancora il grande inquisitore di dostoieschi che parla l'invito che vi faccio è davvero quello di andare a leggere il racconto che trovate in audio anche nella nostra app è meravigliosa la capacità introspettiva e spirituale di dostoieschi che nel monologo del vecchio inquisitore mette in luce il gioco di sacratorio dell'anticristo chi è in fondo il menzognero se non colui che nega che gesù è il cristo ma il diavolo lo nega scignottandolo l'inquisitore nel romanzo è capo della chiesa e porta avanti la dottrina di gesù ma non c'è anima non c'è fede insegna le realtà ultime ma non si crede gli serve per azzettire e consolare gli uomini e tenerli soggiogati con la consolatoria idea della retribuzione eterna eternità che disconosce ma se ne guarda bene dal dirlo in giro e di questo rende complice anche gesù dai gesù io te lo sappiamo non esiste niente ma la gente va bene così terribile meglio un ateo che professa l'ateismo apertamente piuttosto che un religioso ateo che strumentalizza la fede per soggiogare i fratelli nel vangelo di oggi gesù è chiaro se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno la vita eterna esiste davvero niente sottrafugi niente bugie gesù è la verità e la verità non mente bugie gesù è la verità e la verità non mente